Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ciao! Bella raga devo andare! Buona serata! Ciao! Che cazzo? Bridi ma sono una star! Ma perché c'è così poche sub però, porco diaz, fatta la sub raga! Il primo giorno di scuola fanno un appello, mi dicono benvenuti nella classe di ragioneria Che tu devi fare il turistico! Io ti devo fare il turistico, io mi faccio ragioneria e tipo guardo intorno per vedere... Ma non sono io che vedo le persone, cioè è spezzato, ho paura, mi vedo tre volte! Ti vedi otto volte, sì, mi è molto disagente sta cosa! Grande fan come ogni mese l'unico streamer che si merita la sub! Minchia siamo messi bene allora, già lo sai! Ti ringrazio bro per il supporto, grazie per i sette mesi, ben tornato! Ma non era bannabile, certo che sì George! Ma noi siamo ribelli, siamo a cab! Frega un cazzo di nessuno! Andiamo contro il sistema bro! Ed il pisellazzo verde! Ed il pisellazzo verde! Ed il pisellazzo verde! Noi siamo mille! Vogliamo staccare! Tutorino, cioè staccare! Dobbiamo smettere di gamblare! Sì facciamo 50€ il PG, stappiamo! No bro, 17€ giochiamoci massimo! Ok, ma in verità voglio sempre e vorrei rimanere sempre Eric! Ci sta, ci sta! Ma che cazzo me la frega! No Zerbia, no! No Zerbia, no! Sei un grande bro, io no! No scusate! Ah mi scusate eh! No no no! Sto parlando! Vabbè uscendo un attimo fuori topic, scusate... No Zerbia, no no no, non facciamo gli... non facciamo queste cose! Scendo un attimo fuori topic, tu Sara sei single! Un saluto a Fabio Zeta! Un saluto a Fabio Zeta! Un saluto a Fabio Zeta! e al rumen e al rumen massinelli a vladimuskai a vladimuskai attenzione che minchia sono stupato come leggendare ti dicono che sei 2005 c'è stata tipo una meme o una qualcosa che si è creato che hai fatto credere che fossi 2005 a qualcuno tu Zerbian hai fatto credere al tuo pubblico che tua sorella fossero a 2005 non mi ricordo credo di no credo di no esatto ma quando perché 2005 eh non lo so qualcuno qualcuno sosteneva del fatto che fossero 2000 che fossero 2005 tieni conto che su tiktok su tiktok io non direi mai ma io spero e spero vivamente di raggiungere questa questa soglia qui di essere come Gesù Zer forse tu non hai capito che da ragazzino io dicevo sempre la frase voglio essere conosciuto come Gesù e artistico come Michael Jackson capito un Gesù che fa si ma che cazzo me ne frega un lamb walk si vuole fare Gesù che fa voglio essere io ma con lo stile ma come madonna siamo ridi uno a uno sì si gode io non seguo quanto il cazzo e si gode cazzo per 100 bit un bacio no troppo un bacino dove vuole lui un bacino a me sulla guancia dove vuole lui dove vuole lui però io non mi svendo è onesto è onesto mille pezzi però poi dove vuole lui veramente se vuole lui ma io sono una puttana tanto ok va bene è puttana lo accendi no? no io mi sono fatto io ho con i sui tyler tu la ce ne mi sono fatto se non c'era per me no dire un po' bardine ma nulla a che vedere con quello che posso essere ubriaco quello che vuoi faccio queste cose non faccio mai mi mettete in testa Francesca io la vedo molto con la testa sulle spalle cioè vedete ce l'ha proprio sulle spalle raga il fega dei poveri non diventi figo abbassando gli altri ricordati che hai 30 anni con una fidanzata e ci provi con una 15enne la vita non mi sorridi ma io sorrido alla vita come giusto che sia come giusto che sia ciao ragazzi scusatemi siamo le TGKM24 cosa ne pensate dell'album di Da Supreme? cos'è? l'album di Da Supreme l'artista quello swishland bling blang bling blang fratellino cos'è? cos'è tu ormai tu? e cosa ne pensate dell'album suo appena uscito? l'album suo non l'ho sentito ah non l'avete sentito? no non l'ho sentito ah ok che bene ok ciao 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 e oltre ieri ho avuto al me ho visto un po' dobbiamo parlarne? no con striscia prime vabbè ma fate gli scherzi non lo dico proprio col cuore scherzi perché è inizio ma smettete con cosa che non abbiamo mai fatto un cazzo stai zitta ma stai zitta tu ma cosa mi giudichi che non l'ho mai fatto niente stai dicendo a chi l'ha fatto ma si vede cosa della cosa si vede la cosa si vede la faccia dicono che stavo facendo finta di smascellare non lo stavo facendo davvero infatti non si smascella così eh lo so perché smascella come facendo ma perché ma perché non si smascellare perché non si droga appunto non so smascellare per finta perché non ho mai smascellato in vita mia perché non ho mai preso droghe piccole le droghe non ti hanno fatto ancora l'effetto che ti faranno tra 5 anni magari ma perché mi stanno facendo le haters infatti gli sfigati che mi seguono ma il sfigato sarà quel ma questa stronza no ma infatti non è colpa di loro non è colpa di loro lei è incazzatissima ma che minchia vuoi sto scherzando ma c'è la bomba ah ma stai scherzando ah ma stava trollando raga tutto a posto allora grande bro grande bro grande bro la gag italiana bro stava scherzando la gag italiana bro mi facevo video quando ero piccolissima ma minchia ma allora siete veri tiktoker raga non quegli sfigati che arrivano adesso per me è un'offesa di ragazzi che sono tiktoker per me è un'offesa di ragazzi che sono tiktoker nel senso tua sorella è una vera tiktoker vera veterana non come le ragazzine che arrivano adesso ma che cazzo è successo ma che cazzo cazzo è un tiktoker ah grazie per la salta ti è capace la salta la gianchia qua cazzo è un po' ma sono forte a fare l'altra tiktoker ragazzi se no sono scappo non lo so cazzo è bello che sono una manca ti fanno di rubino no ti è un cazzo non ti fanno di rubino no no ti fanno di rubino no ciao 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 si chi è si mi dica sono in live adesso sto lavorando per questo mandami il link su whatsapp se tu mi mandi il link su whatsapp io li faccio rimuovere ok va bene ma chi è che ti fa diventare famosa anch'io sono di milano scusami chi è che ti fa diventare famosa me stesso e la mia originalità e la mia voglia di fare e la mia intraprendenza e la mia simpatia si è la mia simpatia e la mia intraprendenza e la mia voglia di fare i soldi dai oh basta la scelta prima mi viene a chiedere il cappello e poi dici che sono simpatico come un dito nel culo e poi mi viene a dire oh ti denuncio ti denuncio ti denuncio ti denuncio ma denuncia sta ceppa di minchia denuncia non piace guarda la foto non piangere amo no Gab non c'è più ma è Marco e Scorrimaranza cipo Tommy bro ma siamo noi cazzo che grande vai cazzo quando si può passare qua vieni vieni bro vieni vieni che sono di fretta di perdonare compra almeno una rosa per scusarti di questa poca galanteria certo bro sono che sono di fretta che devo andare a cena con una cena bro con il capo grazie mille grazie a te bro ciao 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 grazie vengo per i cento sei il miglior striamer ci sentiamo dopo mica future marmotta sugi pu la mia ciao ciao future marmotta questo è nuovo grazie al pippo giga piccolo questo lo diceva bistro frame cos'è caretto che sono mica future marmotta sugi pu la mia la mia cos'è rumeno tipo cazzo che so io come rumeno rumeno tra cimpula muè io prendo le distanze da quello che significhi anch'io scusate il cimpula ritornano a difingere sul crazy cazzo brrrr 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 quanto l'avevo visto porfodì calma calma calma